Lei ha avuto diversi attacchi da parte della minoranza che contesta il progetto di un privato di realizzare qui un supermercato Eurospin. Che cosa vuole rispondere? Intanto che il dibattito è sempre utile perché anche crea attenzione su un'aria che è dismessa, come si può vedere, da oltre un decennio. Questa via qua, 7.000 m2, dieci anni fa è stata resa commerciale. C'è un proprietario che acquistò dal compianto Piero Illbrand e quindi il privato ha presentato, come prevedono le norme, il progetto per realizzare non un centro commerciale ma una media struttura di vendita che guarda le famiglie meno abbienti con una superficie inferiore ai 2.500 m2, l'aria verde e i parcheggi. Restano un po' di problematiche e anche dubbi rispetto all'istruttoria e quindi il Comune nei suoi organi tecnici ha già chiesto delle integrazioni, soprattutto legate allo studio sul traffico. Come amministrazione comunale abbiamo richiesto un approfondimento ambientale sulla zona. È altrettanto necessario dire che una media struttura come quella di Eurospin e di un gruppo che è serio e conosciuto in Italia comporta anche dei vantaggi in termini di onere di organizzazione e all'incirca 40 posti di lavoro. Nell'altra parte della proprietà, che non è ad uso commerciale, quindi quella comprendente le specie botaniche di pregio e anche la casa, come amministrazione stiamo ragionando per un cambiamento come piano regolatore per destinarli invece a usi pubblici. In conclusione è bene anche dire che se c'è un privato che vuole acquistare dall'attuale proprietario l'aria si metterà d'accordo e quindi può essere anche che questo avvenga. Noi come amministrazione possiamo anche sostenere un eventuale passaggio di proprietà pur non avendone titolo. E ho anche scritto agli enti di cui il Comune fa parte dicendo se sono interessati a un uso pubblico, quindi un'attività con scopi sociali, ricreativi, culturali in quest'area. Va detto però che sulla vicenda supermercato l'amministrazione comunale non ha potere a questo punto se non chiedere al privato determinati paletti, ma non può dire che qui non si fa un supermercato. Qualora la Giunta desse un parere negativo, il minuto dopo riceviamo il ricorso al Tare e ne rispondiamo anche perché non è previsto questo potere discrezionale.